Parte della facciata della chiesa di Santa Maria del Rosario alle Pigne in piazza Cavorra, Napoli, è crollata questa mattina per causa ancora in fase di accertamento. Non si registrano feriti, la chiesa è chiusa al culto e non c'era nessuno all'interno. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. Il crollo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuto intorno alle 7.30. È interessato un appartamento attivo alla facciata della chiesa, disabitato, che è parte del grande edificio che ospita l'istituto comprensivo frobelliano. Nella chiesa, ha detto il sacerdote dell'istituto di Cristo Re, sommo sacerdote e congregazione francese che ha in affidamento la chiesa, non c'erano fedeli, non si stavano celebrando funzioni religiose. Avevamo segnalato, ha detto il sacerdote, nei mesi scorsi alle autorità problemi alla staticità dell'edificio. Non è un caso e non è lo specchio dei tempi e non è nemmeno colpa del 2020 o del 2021 del covid se Napoli cade a pezzi. Il cedimento del rudere a fianco alla chiesa del Rosaniello è più che annunciato. È un qualcosa che dal novembre 1980 doveva essere messo in sicurezza e che invece è rimasto lì come un dente cariato. Chiediamo l'immediata messa in sicurezza dell'aria e la verifica di eventuali responsabilità. Se qualcuno fosse rimasto coinvolto nell'incidente, ora parleremmo di una tragedia. Non è possibile, ha invece dichiarato il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.